Possiamo dire che tutto sommato la situazione è stata abbastanza tranquilla. Sia all'Acquameno che Procida non sono stati registrati particolari momenti di tensione, fatta eccezione per quanto successo sull'isola di Arturo nella notte precedente all'apertura dei seggi. In seguito a presunte irregolarità, i carabinieri della locale stazione hanno provveduto all'identificazione del presidente e del segretario di un seggio. La campagna elettorale per le amministrative, da più parti indicata come una delle più dure nella storia procidana, si è arricchita di ulteriori tensioni. Il presidente e il segretario nella notte, pur dichiarandosi estranei ai fatti contestati, hanno rassegnato le proprie dimissioni e nel seggio in oggetto sono stati nominati supplenti e quindi le operazioni sono iniziate con circa due ore di ritardo. All'interno del seggio numero 10, una scrutatrice ha denunciato il ritrovamento di 10 schede bianche all'interno di un cassetto. Dopo la segnalazione ai carabinieri è scattata l'indagine, che però difficilmente potrà stabilire chi realmente si è reso protagonista di questa irregolarità. La polemica è stata molto accesa, in quanto la presidente è la sorella del candidato Muro, che in una situazione di forte imbarazzo non ha potuto far altro che dimettersi insieme al segretario. Ovviamente, trambi gli schieramenti hanno accusato gli avversari. La notizia va precisata, ha scritto sulla pagina Facebook la lista Procida per tutti. Non vi è stata alcuna rimozione, ma le dimissioni volontarie del presidente di seggio per garantire la serenità del voto. Non è stata comunicata alcuna incompatibilità, non vi è stata alcuna sottrazione di schede elettorali, ma una denuncia di una tifosa della Procida che vorrei. Parliamo di schede bianche, inutilizzabili, al fine di qualsiasi eventuale, in questo caso inesistente irregolarità. In seguito alla denuncia è normale, scrive ancora Procida per tutti, che ci sia un accertamento, ma la giornata elettorale si sta regolarmente sfolgendo a riprova della cattiveria della notizia e del solito attacco alla persona di Luigi Muro. Immediata la risposta del sindaco Ambrosino, il quale, sul suo profilo Facebook, ha scritto così. Nella qualità di ufficiale del governo in materia elettorale, ho avuto contatti con i carabinieri e con la prefettura tra l'1.30 e le 2.09. Mi è stato rappresentato che l'incidente occorso presso il seggio rendeva incompatibile la presenza di presidente e segretaria che dovevano chiarire la dinamica e le ragioni dei fatti e che quindi io dovevo cercare una soluzione. Le dimissioni arrivate sulla mail del sindaco alle 4.29 sono state registrate solo in mattinata, non avendo il comune di Procida un servizio notturno di gestione posta e protocollo. L'istituto del presidente di seggio è obbligatorio. La rinuncia, a maggior ragione se nel corso dell'attività del pubblico ufficiale deve essere determinata da motivi improvvisi, gravi e improrogabili. Mi auguro che le persone coinvolte possano chiarire i motivi e le dinamiche di quanto è stato accertato. Auspico che ciascuno possa farsi un'idea dell'accaduto senza necessariamente alimentare le tifoserie. Chiedo la cortesia di non commentare solamente in questa occasione. Il fatto è ovviamente gravissimo eppur non compromettendo la regolarità del voto in quanto tutto è stato scoperto prima che venissero aperti il giro della Campania ed Italia. Ma non solo. Il dato interessante arriva dalle percentuali dell'affluenza. Al seggio 10, quello coinvolto dai fatti raccontati, ha votato solo il 50% degli aventi diritto in confronto alla percentuale isolana che sfiora all'80%. Fortunatamente, tolto questo spiacevole e triste episodio che macchierà in eterno questa tornata elettorale, non ci sono stati altri momenti di particolare tensione ai seggi. Tutto decisamente più liscio è andato invece all'acquameno. I due candidati a sindaco hanno votato nelle prime ore del pomeriggio di domenica ed è stata rifiutata la stretta di mano. La tensione era palpabile e lo è tuttora, ma a parte un episodio verificatosi nella serata di domenica, all'acquameno non sono stati registrati disordini. La polizia è dovuta intervenire per la presenza prolungata di troppi candidati all'esterno dei seggi, con qualche scaramuccia di troppo indirizzata anche al presidente di un seggio. Nulla di grave, comunque, e le operazioni di voto si sono svolte regolarmente anche nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15. Alla chiusura del seggio è scattato l'applauso della compagine di Desiano, un applauso di buon augurio e soprattutto la testimonianza di una sensazione positiva per il risultato delle urne. La resa dei conti è attesa per martedì mattina. All'acquameno sarà sindaco, uno tra Desiano e Pascale, approcida uno tra Ambrosino e Muro.